Bici e monopattini elettrici sempre più diffusi, per strada se ne vedono ormai tanti, preferiti da adulti e ragazzi e più tradizionali scooter e moto. Questo soprattutto perché i nuovi mezzi non sono soggetti a bollo e assicurazione, pur garantendo quasi la stessa praticità negli spostamenti. Tuttavia, pur se alla guida di bici e monopattini elettrici, è necessario seguire regole ben precise dettate dal codice della strada. Di base resta la prudenza e poi vietato l'uso di cuffie auricolari, indossarle durante la guida comporta multe salate, da un minimo di 165 euro ad un massimo di 660 euro, una regola sancita nell'articolo 173 del codice citato, per cui tutti i conducenti hanno il divieto assoluto di utilizzare apparecchi radiotelefonici, ovvero cuffie sonore. Del resto, guidare con le cuffie alle orecchie è pericoloso per se stessi e per gli altri. Infatti, oltre ad estranearsi dalla realtà, non ci si accorge di eventuali segnalazioni sonore. È stato dimostrato che si impiegano 4 secondi in più nell'individuare eventuali pericoli. Pertanto è consentito utilizzare un dispositivo viva voce oppure un auricolare singolo.